Il primo tempo non mi è piaciuto, al di là del gol del pareggio del Cosenza, secondo me la squadra ha giocato sotto ritmo, ha giocato con troppa serenità e non puoi, non devi. Il secondo tempo mi è piaciuto, la squadra ha alzato l'intensità, ha alzato i ritmi, secondo me ha prodotto, io credo che abbia vinto meritatamente. Tutti i vizi e le virtù del Bari in 90 minuti, il 2-1 sul Cosenza rappresentato una summa delle qualità dei ragazzi di Michele Mignani, capaci di passare in vantaggio dopo meno di tre minuti, confermando l'attitudine a sbloccare i giochi, spesso e volentieri nel primo quarto d'ora portati ad abbassarsi troppo quando si tratta di gestire il risultato, atteggiamento che ha agevolato il pari calabrese con Rispoli, bravo a reagire al pareggio e al rigore parato da Mikai a Chedira allo scadere del primo tempo, con lo stesso attaccante marocchino capace di caricarsi la squadra sulle spalle nella ripresa, prima fermandosi sulla traversa, poi mirando e trovando l'incrocio dei pali con un colpo di testa da tre punti. Anche questa volta, come a Ferrara contro la Spal, non è mancata la sofferenza nel finale, ma il campionato racconta che stringere i denti è un'attitudine che tutti, forse Frosinone escluso, dovranno imparare a coltivare di qui al fischio finale del torneo, soffrendo e vincendo da gruppo, così di Cesare e compagni hanno conquistato il secondo successo di fila, combo che non si verificava da metà dicembre e che ora si ritrovano sul podio del campionato condividendone il gradino più basso con Regina e su Tirol e con la testa già al Cagliari, atteso sabato al San Nicola.